Ok, finiamo l'ultimo mistero, c'è qualcuno che l'ha fatto fermare Allora, nel quinto mistero caudioso si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amin Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. O Gesù, perdona le nostre colpi, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia, e donaci sante vocazioni e sante famiglie. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero e per le nostre famiglie. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A Te ricorriamo, esuli figli di Eva, a Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, per le intenzioni del Santo Padre della Chiesa Cattolica e dell'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Finiamo con questa canzone dedicata a Maria a Međugorje. Grazie a Maria a Međugorje. Grazie a Maria a Međugorje. Grazie a Međugorje. Grazie a Maria a Međugorje. Grazie a Maria a Međugorje. Finiamo con questa, sempre dedicata alla nostra mamma celeste, e poi ci salutiamo. Grazie a Maria a Međugorje. 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 Carmela a Međugorje. Grazie a Maria a Međugorje. Grazie a Maria a Međugorje. Grazie a Međugorje. Grazie a Međugorje. Ci sentiamo stasera.